E' stato il giornalista e storico Paolo Mieli ad annunciare il vincitore del premio Ermando Parete, quest'anno appannaggio del manager bresciano Vittorio Colao, amministratore delegato di Vodafone dal 2008 fino al 15 maggio scorso. A novembre riceverà il premio all'Università Bocconi, lì dove si è laureato. L'annuncio è stato fatto questa mattina a Pescara, nella giornata voluta dai familiari di Ermando Parete, dalla provincia di Pescara e dalla Guardia di Finanza, per ricordare la figura di questo figlio di Abbateggio, piccolo paesino nella maiella pescarese, soldato dell'esercito fascista prima e successivamente all'8 settembre del 43 deportato nel campo di concentramento di Dachau per aver rifiutato di combattere al fianco dei nazisti. Parete, per la restante parte della sua vita, è stato proprio un finanziere e da lui scomparso all'età di 93 anni, nel maggio dello scorso anno è stata intitolata la nuova caserma del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara. Parete ha dedicato gran parte della sua vecchiaia a raccontare soprattutto ai giovani gli orrori vissuti a Dachau e il dramma infinito della Shoah. Una memoria, si è detto questa mattina, che non deve andare perduta ma che deve essere perpetuata anche attraverso il premio istituito e il convegno odierno che si ripeterà negli anni. Mieli, nel suo intervento, ha anche sottolineato il valore della memoria storica che non deve essere edulcorata o rappresentare una parola vuota e abusata. La memoria, ha proseguito Mieli, per restituire valori e rappresentare un bagaglio importante per guardare al futuro, deve ricordare sia il buono che il cattivo, senza partigianeria e senza pregiudizi. Parete, per molto tempo, è stato per così dire straniero nel suo paese, dove la sua storia di sopravvissuto al campo di concentramento per lungo tempo è stata ignorata e sottovalutata, rivalutata solo negli ultimi anni, dopo il 2005, quando è iniziata anche la sua attività nelle scuole. Attività che è stata ricordata con affetto dal dirigente scolastico dell'Istituto Tituacerbo di Pescara, la professoressa Anna Teresa Rocchi. Per far capire ai giovani quello che sono stati i campi di concentramento e quell'esperienza di un nostro semplice concittadino, perché ricordo che ci raccontò che era tornato a piedi, senza scarpe.